Musica Ragazzi sono finalmente Tornato su Brawl Stars Ed è tantissimissimo che non aprivo il gioco Cioè in realtà Il gioco l'aprivo da tanto tempo Cioè l'ho aperto quasi ogni giorno Però non ci gioco praticamente Ma praticamente mai Allora intanto voglio iniziare il video Shoppando questa bellissima mega cassa Della Lega dei Trofei Che magari ci va bene Vediamo No 5 oggetti Quindi Stu Mr.P Eugenio Penny Stick E un po' di monetine Quindi Allora andiamo in Experience Singolo Che mappa Sano Giochiamo ragazzi E andiamo Vediamo cosa succede Perché è da tantissimo tempo Un po' che non gioco Bruno Stars Allora ho messo Ma perché ho messo Edgar signore Non tanto Non mi fa impazzire Edgar Tutti scusi Lo so ragazzi Però O dico mai si chiama Brun Allora Ok Non mi ricordo Sono vicino Tanto in fornit Che Che non mi ricordo Dai Trajardiamo Dai Quindi Andiamo Così Così Leone Dalli Trajardini Io potrei Che sto Byron Finisca I Colpi Adentrare Signori E Prima Ti porto Da casa Mi sta Laggando Ragazzi Brustar Si lagga Sempre Sono attività I mobili Si lagga Sempre Poi A me è così Ma A momenti Che non so Così Signori Che mi sdoppio Mi sdoppio Signori Signori Un'altra kill E non lo so Power up Ok No Sdoppio 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 Brun Manenzi Sdoppio Questo Andrà a prendere Il Sdoppio Sdoppio Andiamo Via No 217 Qui Ragazzi Va beh Fa niente Fa niente Giochiamo Ancora Dai Comunque Una buona Posizione No Grazie Non mi collego Il Super Cell ID E Facciamo Così Perfetto Signori Ok Allora Zorre che Questo qua E sto Appaurato Questo Corvo Qua Un po' Mi preoccupa Ok Jackie Che Importante Mi sdoppio Sprecacolpi Dai Sprecali Bella Ci siamo uccisi Insieme LOL Ragazzi Allora Facciamo una cosa Che sto Per registrazione Perché Forse adesso Posso abilitare Le super cell ID Ci vediamo Dopo L'account Di gioco Era quella La super cell ID Let's go Scegli il nome Su Sì Continua Scegli l'avatar Cosa mettiamo Un maialino Ah Questo qua lo sfondo Che è giallo Sì Beh Vabbè Beh Beh Via che è d'obbligo Tino Sacco Mi interessa No E signori Bombardino Stregone Che vabbè Fa un po' schifo Però vabbè Abbiamo signori Il Super cell ID Possiamo aggiungere Amici Così Cert Accetto Allora Niente ragazzi Torniamo in partita Allora Provare a cambiare Qualcunzio Ci mettiamo Signor Vagli miei Allora Poi A traie E vorrei Potrei Ardare Quindi Mettiamo Coll Coll Guarda Guarda Mare Ci Troca L'altro Ci Trocendo Che Andiamo Spazzo Vabbè In partita Ok Vediamo Abbiamo anche un gadget Tozza Disposizione Madonna Che L'agio No Gacchia Rola Ah Gordo Perché avevo il gadget Dici per me Mamma mia Anche un bombrino Buongiorno 1.600 1.600 Cioè Comunque vedete ragazzi che la sono fanno dal danno Vabbè con l'adgar lì io leviterei Così Vabbè Vabbè ragazzi C'è pochissimi power up Poi non c'è neanche tanta vita Vabbè dai Gigi Seconda posizione Dove Tornare con colli Poi Poi voglio fare un lanciatore Perché ha tantissimo Lanciatore Poi dire di fare Lui Cioè dopo questo Stare qui Allora Dov'hai Il cavo Da una mic Vai La mic Dove sei Eccoti qui Ah posso anche star power up Vabbè 1200 Monete Cos'è facciamo Dai questo qua La buona Guardate Vai 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 Stai 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 Quel tipo Ok Stai 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 Dai Cavolo Che è Un'energetica Scherzi C'è Nel senso Nel senso C'è Il bombone Ragazzi No Dai Che Culo Se non aveva Quello Era morto Col Bombone Li Facevo La Respinta Aspettate No God Che laggava Vabbè No ragazzi Il lanciatore Non va mica bene Il lanciatore Non va per niente bene Non è come un bombardino Dai che mettiamo Vabbè La skin Del super Sole D Salva nulla Orribile Vabbè Vabbè Che la tu vuoi Ti a sentire Vediamo Sta skin Qua Del Super C'è Oddio Mio Ma che è Sto Dv Qua Ma già Allora 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 Sto Dai Sto 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 Ma non ne mette più nessuno Sto Ormai C'è andato fuori In moto Sto 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 Appino Sto Andrò Un po' Con la Gestona Ma Che Lecce Ho sciolto Guannaggio Il wifi Guarda E Vabbè Deve Partito Video Con Fornet Anche se Su Fornet Non vado Molto Sto 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 Che Leggo Vabbè Lago Non Voglio Dire Sto Sto Ma secondo voi Soprano Vabbè Sto 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 Qualche Magari Non so 8 Giorgitori E Riggio 8 No Quello E Quello Giorgiorno Ha Spaccato Signore Ma io Scu Tu E' fortunato quello Mori E' fra morici Ora c'è più Dai 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 Mori mori Let's go ragazzi Vittoria Adesso devi fare l'ultimissima Con un altro Vorrei volere ancora Però uno che c'è un po' giù di livello Allora Ah facciamo bene Dai che c'è un nuovo gadget E poi direi ragazzi Di concludere anche questo video Perché sono già registrata da 10 minuti Allora Io vorrei che Tipi però Dai vede il power appino Dai vai Dai vai Bella per Dynamite Buongiorno Grandizio Questo gadget è abbastanza forte Non che sia fortissimo però E' deciso comunque Però Non mai Allora Andiamo in questa zona Perché sentivo Il player No Qua Qua Non si Allora 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 Lo vorrei provare Vediamo Che c'è un glitch Guarda Che c'è un glitch Che c'è così No Ciao Ho provato A glitchare Vai C'è anche bisogno Del gadget Tozzo Lo sto per usare 10G ragazzi Mi ha fatto Uh Vabbè Per la prima volta Che ho c'è doppio Doppio Cosa per un Dole Mi ha fatto anche 10 coppe tozze E ho fatto un bel po' di coppe Vorrei provare a fare un'altra Che solo sblocco Vabbè Cento monete Allora Non ha senso Cento monete Va bene ragazzi Che dire Per questo video Era tuttissimo Noi ci vediamo Al prossimo video Su Brawl Stars Potrebbe uscire un altro video No Non credo Non credo Poi ragazzi Ma su Forret Certamente Uno speciale Potrebbe uscire Non lo so Comunque noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Bye bye ragazzi